Se fino a qualche giorno fa l'arrivo di migranti a Villa Elce era solo un timore, per i residenti adesso è diventata una certezza. La struttura sulla provinciale Lanciano-Valdisangro è pronta ad accogliere 20-25 migranti. Lo ha confermato a Chieti, al Comitato Villa Elce Unita che aveva sollevato il problema raccogliendo 750 firme contrarie all'insediamento, il Vice Prefetto Giuseppe Conti, dirigente dell'area Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo. Lo riferiscono gli stessi componenti del Comitato con una nota al termine dell'incontro. Alla provincia di Chieti sono destinati 1.000 migranti, 800 sono già arrivati, altri 200 dovranno essere collocati. Nelle prossime ore si terrà un nuovo incontro in Prefettura con 12 sindaci per individuare altre aree e locali adatti a ospitarli. Tornando a Villa Elce, la struttura sulla provinciale è stata ritenuta idonea sia dai vigili del fuoco che dagli ispettori della ASL ad ospitare poco più di una ventina di migranti. Sarà cura della Prefettura attuare i controlli necessari, riferisce l'assessore comunale alle contrade di Lanciano, Davide Caporale, che ha partecipato all'incontro ribadendo i problemi sollevati riguardo alla logistica, al contesto sociale che non consente l'integrazione e al contesto urbanistico in quanto la struttura a ridosso della strada provinciale percorsa da circa 15.000 veicoli al giorno non garantisce alcuna sicurezza per gli occupanti, ma l'arrivo dei migranti dal centro Africa ormai è imminente. Il vice prefetto però ha detto che oltre alla proprietà lì vi è una gestione di una società che gestiranno queste persone e che quindi si occuperanno di tutto, sia del trasporto delle persone, per quanto riguarda il controllo di queste persone che dovranno stare in questa struttura. Domani sappiamo che c'è un altro incontro con dei sindaci del territorio, perché in provincia di Chieti il numero che si paventava mesi fa di circa 1.000 richiedenti asilo, oggi ne sono stati già collocati circa 800 e quindi le altre 200 unità dovranno essere collocate sui 10-12 comuni se non sbaglio. Speriamo che ci possano essere altre strutture, ma purtroppo da quello che ci risulta oggi quella è una struttura che verrà individuata e quindi saranno e arriveranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane circa 25 richiedenti asilo.